He's a sweet-talking sugar-coated candy man A sweet-talking sugar-coated candy man Oh yeah, yeah, yeah Allora ragazzi, qua De Mistre Al mio fianco c'è De Mistre, poi un altro De Mistre, un altro De Mistre No, vabbè dai... Ciao a tutti da De Mistre Parla, parla De Mistre No, vabbè dai, torniamo seri, allora Qua De Mistre Ah, seri No, no, vai, vai Presentazioni, ci siamo i panettieri qui riuniti A parte... Oh, guardate che gioco è, però Eh, sì Minchia Novità Call of Duty 4 Ma come fai ad averlo, gatto papo? Eh, adesso ve lo diciamo Vai, vai Vabbè, quindi io ci sono, mi sono presentato Sì E l'ultimo, non è Nasa Rosso, ma... Presentando Eh, ma sono io Ah, ok Un nome non ho ancora inventato Inventare uno adesso, dai Eh, chiamami Lollo, chiamami Lommano Ah, sì, Lollo E lui aveva Code 4 e me l'ha prestato Ma che ho proprio mio, il ragazzo di mia sorella Che era invece di suo fratello Che invece l'ha dato sopra te Vabbè, adesso è mio E l'ha dato a... Eh, adesso è mio Gatto papo Esatto E adesso finalmente hai tutti i code Mie ragazzi, ho qua tutti i code Da questo fino a Modern Warfare Come avete visto nell'intro Sì, veramente il mamma, mi spettacolo Eh, adesso, non so, parliamo del gioco Sì Che classi stai usando? Non lo so Ok Allora, no, aspetta, stai qua è? L'MP5 Sì Silenziato con la pistola, non lo so E niente Non sono tanto capace a sto gioco Perché non si capisce un cazzo obiettivamente Boh, però è una figata Dai Lollo, parlaci un po', presentati al pubblico Al pubblico? Sì No, parliamo qualcos'altro, di me, non so di così dire Parliamo di questi ultimi giorni di scuola Vabbè, lui è nato in una capanna di legno Poi è andato avanti con la sua carriera È nato 15 anni fa Poverò ora Quando avevo 10 anni Poi ha sfondato nel campo economico e basta E sono una star di Hollywood Quasi star di Hollywood Dopo con la comparsa in questo video Sì Ormai al futuro c'è Si ha il campo cinematografico che è sul campo d'erba Il campo d'erba? Aspetta Il campo di carica Ah, ok No, ma sono tutti in cui Che scuola fai, Lollipop? Lollipop 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 è il primo anno di ragione Occhio là in fondo Ah, quindi sei in classe con Lollipop 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 Che oggi con lo stronzo non c'è Perché è giù a Riccione o a Rimini o non so dove Con il caccio Minchia che scaccio Ma che cazzo è? Hitmarker Oh, ma odio il T-Click Cioè, non è che l'odi, lo amo Perché? Esagerato Mi è entrato in testa Non è giusto Non c'era la scaccia Non c'era Infatti Io stavo a fare una cosa vostra E mi butto Vado, vado Occhio Perché sei arrivato in mezzo Quindi ti sto sparando Hai un... Coso aereo Come si chiama? Ah, la d'alastasis Sì Cosa parlo? Eh, no Coso aereo Non mi veniva in mente il nome Eh, boh Abbiamo qualche annuncio da fare Ecco i quali famosi coltelli di gomma Sì, sicuramente Tu a coltelli va Come avere un pollo di gomma in mano Quelli che mi sbagli addosso Sono Bip C'era un gioco tipo Quello che potrei combattere con un pollo di gomma Ah, beh, ci sono i trucchi di tennis Che posso dare Della racchetta da tennis Sì, padella Ah, sì, quello sì Ce l'ho Oh, che figata È bellissimo Che se mi succedono Oh, qua sotto non lo ricordo Quando giocavo Ma non c'è nulla Che c'era lì con brigo Guardi, potete giocare la carta Non passava nessuno No, questa era bella Oh, mince, che cazzo di boh Martirio Oh, tu sti hanno martirio Questo gioco Martirio 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 E stranamente si sgancia Lo so, si tolge Come si chiama Oddio Oh, spettacolo Paglia schiacciato qua D'altro per ricaricare Quella sola cosa Dove sono? Cattivo Dove i bruci? Ma no No, no Bombardario Ma per me Sono abituato a Nappa Ah, mince, è uscito il trailer di MW3 Mince, è stato epico Che hanno fatto Il gioco di lettere Di World War 3 Come World War 3 Quello che hanno invertito Non ho capito Allora, nel trailer Nella fine usciva OV, W3 Sì W3 World War 3 No Poi hanno invertito Una W E è diventato MW3 E' stato figo Ok Mi è stato io Che ho suggerito Quest'idea Perché Come tu ho già detto Due a contati Con Activity Si Nel campo dell'economia Come va Le azioni Finché ho un cellulare Sotto il banco Va benissimo Sì Ciao Delle verifiche partire adattata per la rossa è con i primi cittadini cittadini sono di quei nomi che sono che ho avuto c'è un risultato percorso la spazio posto e per me ragazzo colaco spedicoli i titoli di clip 6 skipper i 4 3 ma io pensavo che fosse per il succo di frutta bravo cazzo oh che pari non accoltellare più perchè fu un cagare con te ma sicuramente non muoiono per la coltellata con l'elmetto per i tiri tra gli occhi mi ricordo un giorno che mi seguiva per tiramini delle cascate le cascate non delle cascate delle cascate con casco si delle emettate ok il bello di questo gioco è che ti giri e non c'è nessuno ti giri l'altra parte e non c'è nessuno è vero perchè tipo il respawn è a caso infatti ogni tanto ti giri ce n'è gli 8 davanti ma che nuovo è impressionante e poi non muoiono quindi ci colpi in testa non muoiono se quel cazzo di bonus che si chiama luca oh io tu ti giri la grata a casa e fai una sfida sempre oh la capa si ma non mi piace l'arma più figa del gioco solo per questo si ma sto gioco non è bello cioè non è bella l'arma no non mi piace di usare è troppo moscia ma cosa al capo con l'altro sarà ma è una delle più forti ma comunque io non so mi risi si piegati vabbè ma io inizierei con il nostro solito test di intelligenza infamissimo secondo me lui lo sa di sicuro dai no vabbè ma cambiamo domanda perchè si sarà preparato vabbè tanto lo sai cambiamo vai mister vogliamo una domanda per loro non so ok no 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 mi mente niente adesso allora vabbè quanti sono i 7 anni nel mio lucido che niente intanto voglianino quando federico secondo sei al trono si e la sua politica verso cos'era orientata e federico secondo disvega eh su credo che dico secondo dici si quello quello è famoso dai io c'è chi è che non lo ti dico secondo se ripeti la domanda lo diciamo ma no ci c'è vito ci c'è vito no ci c'è vito si su di robo si beh dai qualcosa di più semplice il secondo presidente degli Stati Uniti d'America basta questo non lo sa nessuno chi è che lo sa io no quello di adesso eh tu lo sai chi è quello di adesso chi è quello di adesso è Barack 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 l'Obama ah l'Obama l'Obama quello che c'era prima è l'apostrofo Obama quello che c'era prima eh Kennedy oh Kennedy oh Kennedy questo quello che c'era prima ma questa è riuscita male eh 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 quello che c'era prima dai ha fatto tante belle porcate dallo score no eh insieme qua mettiamo il beep ma è che se noi mettiam un Persian p push push quante sta durando? utta quante sta durando il video! qua ogni volta che parlo mi tolgono anzi la voce ce l'hanno tutti con me Oggi c'è perché ce l'hanno tutti con me Eh no, la rivelazione, no no, faremo un video intitolato la rivelazione Va bene, lo faremo prima o poi Eh ma voglio sentire anche parlare un po' ma la matrioska Sto parlando bastardissimo da dietro Io abolirei le accoltellate da dietro Chi so, sono belle Oh ma porco... È Dio, è Dio, è Dio, porco diavolo Porco diavolo Bioparco, il classico bioparco Il tiro c'era il bioparco Sconfitta Ah dai segniamo il trucco, vabbè ma quanto sta durando? Ah ci stiamo, ci stiamo Ne facciamo un'altra Che trucco è, che trucco è? Il trucco nel bestemmiare, se non so bestemmiare Se voi mettete le due mani davanti al mio Ma lo sanno tutti Vabbè io glielo dico, dite bioparco Sentire, bioparco Sembra, però invece ho detto bioparco Vabbè adesso passiamo i saluti Bioparco Passiamo i saluti Siiii Sicuro Vabbè ragazzi, vi salutiamo Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo me l'ha detto lui di salutare No, il nostro oggi ha rotto le palle Oggi non me ne vado, ciao Dai dai Ciao, ciao Vuoi fare a botte? Vuoi fare a botte? Vuoi fare a botte? Cioè non lo so Vuoi fare a botte? No Vuoi fare a botte? Stai attento Dai saluta Adesso devo salutare Vabbè qua Dei panettieri Sicuro Devo salutare Saluta Ciao ragazzi Vabbè metti in ginocchio Qua ai panettieri Ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi